Bella ragazzi e bentorni qui in questo terzo episodio del Rotto Commander Prima di iniziare vi ringrazio tantissimo anche per il supporto che mi avete dato ieri Siamo arrivati a 15.000 like Comunque adesso sono le 2 di pomeriggio Sto registrando per le 6 e mezza Vi chiedo anche in questo episodio di arrivare a 20.000 like E di lasciarmi un bel commento Perché il vostro supporto veramente mi sta facendo un piacere gigantesco Mi fa piacere che comunque una serie vecchia Che la maggior parte della gente non conosce Anche perché mi hanno chiesto che cos'è il Rotto Commander Il Rotto Commander è semplicemente arrivare dal livello 1 Al livello massimo del primo Tra virgolette prestigio Per far vedere un po' tutti come si livella In malo modo Allora oggi io vorrei farmi un dominio Forse però dura tantissimo il dominio sapete Ci facciamo un tutti contro tutti raga Famosi un tutti contro tutti che proprio sa Sparamo rapida E usiamo, riusiamo la Grease Gun Perché mi avete detto che il PPSH è una merda totale Ragazzi scusate ma esce sempre questa mappa Che questa partita la perderò malamente Anche perché non sono in grado di giocare Su Tc Oh eh Eh Ma che davvero Ma che davvero Ma che davvero Guarda che guarda questa merda È qui è qui È qui è qui dentro È entrato qui dentro È entrato qui dentro Lo seguo E lo E faccio assist Guarda Si è lanciato Torax immortale Eccolo subito Dei mortal Comunque raga Dato che molti come ho detto Mi avete chiesto che cos'è il Rottu Commander Facciamo una cosa Scrivetemi voi Nei commenti Che cos'è per voi Il Rottu Commander Scrivetemi Hashtag RTC E mi scrivete proprio Una di quelle descrizioni fondamentali per la vita Tra l'altro io non sento niente Perché ho il volume basso Adesso muoio Sono morto Non ci credo Che culo Che culo Mori bra Ok 3 a 3 Va bene Come ho detto Non sono minimamente in grado di giocare su TCT raga Ma minimamente Guarda questo Guarda questo Guarda quello Mori spawn Mori spawn A qua qualcuno raga Sicuramente Sicuramente Eccolo Infatti Sono morto Sono morto Lo inseguo Ma sono morto Sono proprio morto Mori Ok Fantasioso Giochiamocela qua Mi sono visto un botto De video de velox raga Ma proprio un botto De video de velox Mi sono visto Sono diventato tipo il più forte del mondo Su Non è vero Non sono diventato il più forte del mondo Da nessuna parte Proprio ragazzi Però come ho detto Scrivetemi per voi Che cos'è il Road to commander Che cos'è il road to commander Per voi Così lo spieghiamo anche Ai neofiti No A sti fide puttana Che sono arrivati tardi Quello è rimasto fermo nell'angolo Vabbè 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 Comunque rega In descrizione Io vi lascio un Un canale Che è quello che avevo Del mio amico Che avevo già spammato Diciamo l'altra volta Che fa soft air Se volete passateci Perché magari possiamo Pensare di fare Qualcosa Insieme Guardalo Dai vedete a cazzo La coglione Bombardamento nemico Noi ci infiliamo dentro Vai spara spara No qua muoio Damose Vi prego damose Attacco Tu madre E Ma mi ha salvato Ma mi ha salvato il culo Ha sparato a uno dietro Per caso Rega Sai che non l'ho visto Dai rega però Allora Tecnicamente Su TCT Vincono i primi tre No Quindi anche se arrivo terzo Potrebbe andare bene A deficiente Ma con chi credi D'aveccia che fa A coglione A coglione Qua Là proprio Pieno Là pieno Aspetta buttamose qua dentro Un attimo Rega che Sto nel merdone Un attimo Dai una kill All'uav Mi sono messo Nella merda Da solo Rega Scommettete che adesso Devo scegliere un lato In cui uscire lo sbaglio Dove cazzo stanno Damose da qua Damose da qua Damose da qua Damose 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 Ci siamo un attimo Fermati con le kill Rega non va bene No quello What the fuck Dai Dove sono i nemici Spaziali Perché non li vedo Più Ora che mi serve L'uav Ma dai Ma stanno tutti lì Qua Let's go Let's go Le vedo il cazzo No come bombard Ok No 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 Sono un cojone So proprio stupido Oddio No eh lo sapevo Guarda che sfiga del cazzo So proprio stupido Volevo selezionare l'uav Vabbè Ragazzi ho una mira terribile Ho avuto una mira terribile Contro quest'uomo Veramente terribile Ma veramente terrificante Rega comunque rega Come ho detto Arriviamo a 20k like Mi raccomando Per il supporto Alla best serie in the world Che torna Tornerà comunque Anche Non vi preoccupate La sfida Dato che me la chiedete In tantissimi Tornerà Don't worry about it Questo sta qua Eh fra Vabbè è tutto eh Ma non mi ammazzi Con la palla così Non mi ammazzi proprio Ah ma posso Ah no Infatti ma perché C'ho il silenziatore Ma so stupido Capisco che è stealth Come cosa Però Qua Dove Dove è andato Dove è andato È fottutamente sparito Eh vabbè rega Però ero ferito Perché non mi sono abbassato Perché ho Ho veramente Delle problematiche Dai su Stavanna bene Eh tu mori eh Comunque rega Il ppsh Madonna come Ho distrutto Il cranio Cazzo 16 pari No Chi me l'ha tirata Chi è la merda Ma Questo l'ho aperto Rega Mi devo comprare Ah scaf Scaf gaming Ti prego Dammi un Dammi un No non ci credo Che questo Ci sia inculato Tutte e due così Scaf gaming Dammi i joystick Mi servono i joystick Mi serve uno scaf Mio Personalized Che ho scritto dread Capisci Ste cose fondamentali Della vita Mi servono Lo scaf Scaf Dove sei Allora rega Qua con calma E discrezione Non so manco quanto sto a fare 17-6 Un gran match Questa è una grande È un'ottima performance Il fatto è che Non so Ui Dove cazzo sta Noi me la sto giocando Dentro sta casa Però rega Mi sa che me la sto a mettere Il culo da solo Sto cercando di controllare La situazione Però Mone becune M'ammazza Come mi muovo io Eccolo Mori Devo migliorare con la mira Non ce credo Ma che sfiga Perché ricarico Lo sapevo che appena Beccavo uno Mi inculava raro E infatti Che ha fatto Mi ha inculato raro Ho preso la vasellina Mi ha piegato E ha fatto il cazzo Che gli pareva Eh Te pare Sono super Super Eh Il super superman Che cos'è il super superman Dai 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 Fuck Vedi se c'avevo il silenziatore Eh Che figa del cazzo Ma questo è vestito da cecchino Può usar cecchino Ho perso Eh Non la recupero Non li vedo più Rega Stanno a cominciare a camperare Come i cani Mo mi rimetto il silenziatore Vediamo che fate Dei coglioni Ma che poi Ho notato Che in realtà Poca gente usa le cuffie Su sto gioco Guardalo Guardalo Cazzo Signore eterno Che sta nel cielo Ma ragazzi Qua ho fatto la provata Non mi ha dato la kill Però Assist ovviamente 29 Va bene dai Ok 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 21 a 22 21 a 22 E te devi levare dal cazzo Qua ricarichiamo Perché è fondamentale Io uso il silenziatore Perché in realtà Su sto gioco È abbastanza utile Sto a giocare troppo Nello spawn Nemico Cioè Ai lati della mappa Rega Proprio troppo Per questo non li trovo Eh 22 a 24 Beh abbiamo fatto una buona performance Per essere la prima partita del giorno Rega Comunque Guarda che merda Torrax Dai Ho perso Tiè magnatela Magnatela proprio Mettici il ketchup Fai la salsa rosa Con la maionese Guarda Quello là Non lo challenge Minimamente Perché Finirei veramente Abrustolito Dalla sua arma E la sua potenza Di fuoco Dove sei? Mori Coglione No che sfiga Azeoli Ma sta a vincere Quello con la pala Ma può vincere Uno con la pala Oh ma Vacca 2 Ma basta Un attimo Adesso ti rispondo Al telefono Un attimo Un attimo Eh vabbè ragazzi Eh vabbè ragazzi Eh vabbè ragazzi Eh vabbè Eh vabbè raga Che difa Quando è così Quando ti distraggono Che ti chiamano Al telefono Ah Mi si è scollegato Il controller E avevo una granata In mano Ma che cazzo Vabbè ragazzi Sta partita è andata Puttane Oh Non muoiono più Ormai non muoiono più Ormai non muoiono più Ormai non muoiono Veramente più ragazzi Oh Oh Cioè mi aprono Hanno cominciato Ad aprirmi raro Basta Basta ragazzi Finita 23 17 Avevamo iniziato bene Poi che è successo Boh È successo qualcosa Nel gioco Che ho fatto vincere Vabbè Siamo arrivati i terzi Però non ci ha dato persa Vabbè Ovviamente Deve sempre succedere qualcosa di strano Nel rotto commander Perfetto Comunque Spero che il video vi sia piaciuto Ricordate di lasciarmi un bel like Un commento Ah ma non ha vinto Ah ok Sì Perché qua La gilcam è strana Vabbè Mi sentiamo alla prossima Lasciamo a lei con un commento Bella Non sono morto Sono più forte della storia No Gesù Cristo Perché torna indietro Dai raga 25 4 10 Stai facendo Stai facendo 4 10 E allora fai schifo Stai facendo